Bentornati su Broken Stories di Flavio Troisi, scrittore e ghostwriter. Parliamo di libri che avvincono. Perché? Perché ci piace avvincere e ci piace anche avvincere facile, in un certo senso. Questo 2020 ci ha riservato il periodo terribile del lockdown, della quarantena. In quel periodo io non ho smesso di giocare a Dungeons & Dragons, che è quel famoso gioco di ruolo. Ho un gruppo di sei giocatori, ci incontriamo una volta, ci incontravamo una volta a settimana personalmente, e io come master conducevo questo storytelling condiviso, che permette ai giocatori di interpretare e quindi ruolare personaggi come druidi, nanici, elfi, guerrieri, oppure maghi, in un mondo, guerrieri umani, orchi, eccetera, in un mondo fantasy, ricostruito nel teatro della, diciamo, della fantasia, con molti molti dettagli. Quindi avventure fanciullesche, avventure facili, dal punto di vista, come dire, del sottotesto, non necessariamente quindi dotate di questa funzione allegorica che dovrebbe insegnarci qualcosa, come spesso invece la narrativa ci viene presentata da dietro una cattedra. Bene, poi è arrivato il lockdown. Il lockdown ci ha costretto a non vederci più, purtroppo ha limitato i nostri movimenti, ma tramite internet, Dio lo abbia in gloria, anzi Dio lo benedica, perché è ancora fra noi, grazie al cielo, siamo riusciti a giocare a distanza. Ebbene, ho notato una cosa. Nel periodo del lockdown, la nostra condivisione di avventure, del nostro storytelling, quindi la nostra fantasia condivisa, è stata molto importante per vivere con maggiore serenità un periodo molto duro. Emozioni che rischiamano anche di, come dire, di emozioni molto pesanti, molto soverchianti. Quel momento di narrazione in un mondo fantasy ha permesso a tutti noi, e i giocatori me l'hanno proprio confermato, di vivere meglio quel periodo. Interessante, questo mi ha fatto ragionare e mi fa ragionare sul fantasy, un genere molto spesso bistrattato. Badate, perfino da me non amo tutto del fantasy, non mi piace la pacottiglia facile, non sono chiaramente in target per la narrazione fantasy young adult, Eragorn mi fa cagare, l'ho letto, ma ci sono libri fantasy che mi hanno formato e ai quali io, o meglio, sì, amo tornare, ma amo tornare al fantasy in generale. Il primo libro che veramente mi sconvolse i neuroni con il fantasy fu questo di Robert Heinlein, autore soprattutto di fantascienza, che però scrisse, a questo la via della gloria, un sword and sorcery, una storia straordinaria di pura avventura, di un cavaliere umano che va, viene trasportato in un mondo parallelo dove i draghi, i nani, gli elfi, tutto esiste, tutto, tutto è possibile. Un po' come questo, un altro libro che amai e amo moltissimo. Stradinario, Tre cuore e tre leoni di Paul Anderson, assolutamente fenomenale, tra l'altro seminale per Dungeons & Dragons, ma poi naturalmente tutti quanti conosciamo, questo, non ne parlerò. Ma io quest'estate ho letto invece questo, sapete cosa? Brandon Sanderson. Brandon Sanderson è uno scrittore americano che ha scritto molto molto prolifico, che con questa saga delle croniche della Folgoluce, arrivata nel quarto volume di prossima uscita per Mondadori, dopo essere stata di Fanucci, beh, con questa saga lui ci propone ogni volta dei libri di mille pagine. Santo Dio, mille pagine è bassa! Eppure io sono riuscito a leggerlo, questo libro. Com'è possibile? Vabbè, magari entreremo nel merito dei libri di Brandon Sanderson prossimamente, ma il punto chiave di questo nostro bisogno di fantasy, secondo me, è proprio questo, che il fantasy è veramente la forma di lettura più, se volete, salgariana, più puramente avventurosa ed escapista, nel senso nobile del termine, che io penso esista. Il fantasy ci permette veramente di evadere da questa realtà, proponendocene altre alternative in cui, sì, alla fine le sfide sono molto più, magari anche più, come dire, terribili, molto più dure, però, ragazzi, sono sfide che possiamo affrontare. Perché? Perché i protagonisti del fantasy spesso sono eroi e noi abbiamo bisogno di sentirci anche così. Il fantasy rappresenta proprio questo. Poi, al di là di tutte le allegorie, al di là di tutto quello che vogliamo metterci, il fantasy è qualcosa, io credo, di cui abbiamo bisogno. Non è un caso che esista, secondo me, perché tutti noi abbiamo bisogno di tornare un po' bambini ogni volta, e ogni tanto, non ogni volta. Io penso che sia importante. Penso che sia importante riconoscere questa funzione terapeutica del fantasy. Non è necessario, intendiamoci, questa è solo una riflessione a margine, qualcosa che voglio semplicemente condividere, offrire, come mio pensiero su questo genere. Perché io devo riconoscere che Brandon Sanderson è un grande, c'è un grandissimo scrittore nell'intrattenere, ok? Non ho una nobilissima arte, complicata, ma non è un grandissimo scrittore per sé. I suoi personaggi alla fine mi piacciono, ma non mi conquistano completamente. Le sue storie sono molto, molto interessanti, ma non mi cambiano la vita, non mi hanno offerto nessuno spunto di riflessione particolare. Le sue ambientazioni sono originali, mi fanno sognare, questo sì, ed è magnifico. Non è il solito fantasy, non è quello con gli elfi, ok? Intendiamoci. È un'altra cosa. Poi, se analizzo un attimo di che si tratta, mi rendo conto che, tolti i dettagli di originalità, poi l'impianto è semplicemente una storia molto epica, in qualche modo cristologica, che si potrebbe destrutturare in tutti i modi per riconoscere che in effetti non c'è niente di nuovo. Ma chi cazzo se ne frega in realtà? Quando tu stai leggendo Brandon Sanderson, tu stai passando un bellissimo periodo altrove. E questo è fondamentale, secondo me. Leggiamo anche per questo. Non leggiamo solo per capire meglio il mondo, solo per essere più profondi, non leggiamo per diventare persone migliori. Di fatto poi questo succede. E succede anche leggendo storie come quella di Brandon Sanderson. Sì. Ma non è per questo. Cioè, questa è una conseguenza. Quindi il fantasy a me piace molto, perché permette proprio di smettere di farsi tante seghe mentali. Ecco. Perché no? Perché no? Possiamo farlo. Possiamo leggere cose più leggere. Possiamo leggere cose che veramente ci portano altrove. E quando il gioco si fa duro, a volte bisogna proprio smettere di giocare, prendersi una pausa. E il fantasy è questa roba qui. E forse è il modo più veloce, più distillato, più preciso, più acuto per prendersi una pausa dalla realtà. Ed è fondamentale. Quindi io ringrazio tutti gli scrittori fantasy, viventi e non, del presente e del passato, che si propongono questa missione, questa missione fondamentale di adottare le facoltà immaginative umane per creare delle realtà alternative credibili, avvincenti, in cui possiamo ogni tanto traslocare il nostro cervello e stare bene, stare bene. Quindi, sì, vi consiglio Brandon Sanderson. Sì, ve lo consiglio assolutamente, perché, ragazzi, più di mille pagine che si fanno leggere con quella velocità sono qualcosa di incredibile. Quindi di cosa sto parlando? Delle cronache della folgoluce. Ho letto il primo, la via dei re, ho letto il secondo, le parole di luce. Ho anche già comprato giuramento, che è il terzo, e il quarto sta per uscire per Mondadori, come vi dicevo. Lo prenderò? Sì, lo prenderò probabilmente anche quello in ebook. Spero che poi arrivi anche quello in offerta speciale, perché uno, non voglio spendere tanti soldi, due, non voglio avere un diplodoco del genere a casa. Non ho più spazio, come vedete qua dietro ci sono solo libri, tutta la casa è piena di libri, questo e altrove. Questo spazio e altri spazi a casa. Però c'è sempre spazio a casa mia per un bel libro fantasy. Anche se amo l'atmosfera cuope, anche se amo, anche se sono un postmoderno che solleva scetticamente il sopracciglio di fronte al solito principe che deve farsi valere, alle solite damigelle, ai soliti guerrieri super eroici. Sì, certo, sollevo il sopracciglio. Ma sapete una cosa? Poi quando vedo che in edicola escono questi libri, insomma, piuttosto, se volete, dozzinali di Dungeons & Dragons, quando vedo che escono ancora, c'è una produzione di libri semplicemente, semplicemente tra virgolette, escapisti, avventurosi, piacevoli, eccetera, beh io torno sempre come un ragazzino a quel piacere. E spero che in realtà molti altri lo facciano in questa maniera consapevole. Non dobbiamo necessariamente leggere per essere migliori, ma credo che lo diventiamo comunque leggendo le storie che sollevano lo spirito e ci permettono, come è successo ai miei amici, di uscire dal lockdown emotivamente e mentalmente più facilmente, perché il lockdown c'è e sempre nella nostra vita. Il fantasy è una delle vie di uscita. Ciao a tutti!